Benvenuti ragazzi, eccoci qua. Oggi vi inquadro un po' la mia stanza, meno male. Vi porto di nuovo un video assolutamente sul modulo che ho dovuto testare questi giorni e vi dico già che è una cosa allucinante perché attaccate veramente bene e tra l'altro a difendere, diciamo che si difende da Dio. E niente, io volevo un attimo farvi vedere la mia camera, un po' in disordine. Lampione per lo streaming, anche qua lampione. Poi c'è un po' di casino, c'è la Play, il monitor, poi c'è il faretto qua nascosto e ce n'è uno dietro la Play nascosto, ma voi dovreste vederla. Ragazzi, io come sempre vi porterò, cercherò di portarvi altri contenuti come compra vendita, tutte queste cose qua. Come sempre vi ricordo che qua sotto vi lascio il mio link Telegram e soprattutto porterò sempre altri moduli in modo che possiate trovare la giusta tattica, le giuste istruzioni per la vostra squadra, perché giustamente ormai siamo arrivati a un punto dove ognuno ha, diciamo, la sua squadra molto forti, tra l'altro perché a questo punto del gioco tutte le squadre sono forti e bisogna trovare la tattica giusta per ogni singola squadra. Io vi porterò diversi moduli in modo che poi voi vedete e quello che vi piace di più lo usate, ok? Io vi lascio il video, spero che tutto questo vi piaccia. Lasciate sempre un commento per supportare il canale, ma soprattutto un bel like. Mi raccomando, ricordo, qua sotto vi lascio il link del mio gruppo Telegram dove siamo tantissimi, siamo tutti i giorni a scrivere, 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 dove ci diamo consigli sulla squadra, un po' di tutto. Niente ragazzi, io vi auguro una buona visione, un bacio dal Sibè, bene guys. Eccoci qua ragazzi, come vi ho già detto, oggi vi porterò un nuovo modulo con delle tattiche e delle istruzioni anche qua davvero devastanti. Come potete vedere la mia squadra ha cambiato un bot, lo vedete già da questa schermata che ho sculato e ho migliorato un po' grazie alla VL, un po' di giocatori, ho anche fatto l'evoluzione di Rabiot che vi farò vedere. Vi faccio un piccolo recap della mia squadra, vi dico anche secondo me il mio parere confronto ogni giocatore e in più poi vi mostro le tattiche istruzioni di questo modulo. Allora ragazzi, come potete vedere in attacco c'ho Francescoli, Obama Young, Abbe Di Pelè, in centrocampo c'ho Loftuscik, Rabiot e Musiala, difesa da complosta da Rize, Cordoba, Blanc, Cafu e noi li riporta. In panchina abbiamo Bernardo Silvo, Zecco, Forlan, Kanté, Lee Kangin, San Maximen, Mangala, Brolin, Di Maria, Malcom, Oscar e Pedri. Allora incominciamo dalla panchina, Pedri non l'ho praticamente mai usato quindi non so darvi una mia opinione riguardo a questo giocatore. Oscar 6, normale però infatti rispecchia molto su Overon, Malcom si aspetta che vinca in campionato perché 86 è veramente pietoso, Di Maria no, non mi piace, vabbè è un bel giocoriere tutto però è inlinkabile. Brolin, ragazzi, per quello che costa a me è piaciuto davvero tanto perché alla fine costa mi sembra sui 30-40k, ho giocato 29 partite con lui, mi ha fatto 18 gol e 8 assist, ottimo rendimento. Mangala come super sub mi son trovato davvero bene perché è un ottimo giocatore e poi è una sfida che costava davvero poco quindi andava fatta per un 86 gratis. San Maxi Man l'ho usato molto titolare, però non è il Maxi Man oro o raro che c'era all'inizio del gioco, cioè è proprio lento, lento. Poi per carità se si è capace a skillare è un ottimo giocatore, però io usandolo come ala, come potete vedere, ha tanta partita e solo 10 gol fatti e 24 assist. Mi aspettavo numeri molto più alti e questo qua è un ottimo sub, anche se ha il 3 di piede debole che si va a sentire tantissimo, quindi ve lo consiglio se avete tante carte e dovete farle fuori. Non è male, c'è un mini investimento fatto bene, nel senso perché come super sub va bene. Ovviamente se avete una squadra mediocre, se avete dei mostri non serve a niente farlo. Kanté ho fatto l'evoluzione, mi sono trovato davvero bene perché dopo l'evoluzione diventa un piccolo mostriciattolo e giocare al centrocampo con lui è davvero una sicurezza, anche se adesso come vi ho fatto vedere prima ho dovuto far Rabiot e mi sto trovando meglio con Rabiot che con Kanté perché è un po' più alto. L'unica pecca secondo me di Kanté è che rimane sempre un po' piccolino. Vabbè poi c'è Forlan, Forlan è un finalizzatore unico però molto lento, secondo me l'87 di velocità si fa sentire abbastanza e per carità quando è davanti alla porta non sbaglia mai però io lo tengo come super sub. Poi c'è Luis Eko, mamma mia ragazzi ma ho fatto due volte la sfida, mi è uscito due volte allora ha detto uno lo tengo. Vi giuro che il 79 di velocità è fake perché con la palla tra i piedi è davvero veloce, come potete vedere è super sub, 15 partite giocate, 15 gol quindi ottimo rendimento, un gol a partita, è perfetto. Io vi giuro che è una carta che può svoltarvi la partita se siete un po' in difficoltà e avete bisogno di qualcuno un po' più alto lì davanti, io ve lo consiglio Eko. Bernardo Silva l'ho trovato e vi dico, è giocato in cc, pietoso perché non difende quindi non serve a nulla, invece è giocato come alla destra perché lui può fare l'ala destra come role alternativo o fa la sua apparizione però non è incisivo, è una carta secondo me da usare quando l'altra squadra sono stanchi allora andiamo a mettere Bernardo Silva in modo che ci dà più garanzia. Neuer è un portiere, quest'anno io portiere li salterei perché una partita parano 5 no, poi 10 partite parano 2 no, quindi random. Cafu fortissimo ragazzi, davvero forte, l'ho sculato in un pacchetto e uno scambiabile ovviamente e mi sono trovato davvero bene con lui. Blank, una sicurezza insieme a Ivan Cordoba e adesso questo provando invece terzino Rize che è basso, tozzo e corre come non so cosa e usa bene il fisico. Cioè è una carta secondo me strabuggata, costa solo 80k per un terzino che comunque ha un body type abbastanza spesso però non influisce sulla sua velocità e poi ha un piedino che tira dei siluri. È un cinghialotto per me quindi mi piace tantissimo. Love to Chic ragazzi è una carta clamorosa. Non so adesso se potete ancora finirlo, comunque spero che lo abbiate finito perché è una carta davvero mostruosa, ha preso già l'upgrade. Io non ho mai visto un giocatore gratis così forte, cioè nel senso è proprio forte. Comunque un centrocampista difensivo che ti fa 7 gol, 5 assist in 28 partite, lo so che vi sembra poco ma credetemi che lui è quello che mi dà il via, le azioni perché c'è un piede davvero fine e poi un dribbling eccezionale. Musiala ragazzi è devastante con R1 perché c'è il perk fatto apposta con R1, mi sono trovato da Dio, quindi anche lui ve lo consiglio, davvero devastante. Poi 5 di mosse abilità e 4 di piede, 96 partite, 36 gol e 26 assist, ottimo. E poi c'è lui ragazzi, Rabiot, cartona e con questa evoluzione diventa una carta allucinante, quindi vi consiglio di farlo anche abbastanza veloce nella possibilità che magari si alzano i prezzi e non riuscite più a farlo. E Abomeyang è un nì, lo sto testando ancora, non ho ancora capito bene il suo funzionamento perché mi sembra abbastanza lento per il 91 di velocità che si ritrova, quindi attualmente io non ve lo consiglio però è ancora in fase di test anche se ha fatto 7 gol e 8 assist in 11 partite che non è male, è super sub, adesso l'ho messo a titolare. Abedipele, l'anno scorso era devastante, quest'anno un po' meno, però è sempre una carta che in attacco vi svolta il tutto perché è veramente forte. Cioè nel senso a me quest'anno non piace tanto a confronto all'anno scorso ma rimane comunque un ottimo giocatore. E poi ragazzi c'è lui, il bomber, il bomber di classe, Francescoli o Francescoli come lo chiamo io ma tanti amici mi prendono in giro perché lo chiamo Francescoli invece mi dicono dalla regia che si chiama Francescoli o Francescoli non mi ricordo. 11 partite giocate, 18 gol e 6 assist, questo qua è veramente devastante con R1, poi ha un ottimo controllo palla che sarebbe anche il suo perk e io ve lo consiglio vivamente. Io questo proprio do un 10 spaccato. Passiamo dunque alle tattiche. Il tattiche, il modulo sarà il 4-3-2-1 con i due atti. Come potete vedere mettiamo equilibrato, ampiezza 50, profondità 72, costruzione e manovra equilibrato, creazione e occasioni e passaggi diretti, ampiezza 50, 7 giocatori in aria, 3 angoli e 1 punizione. Io li gioco così ragazzi, in campo metto Francescoli o Francescoli come volete chiamarlo, prima punta, Obama Young, Abbe Di Pelè, supporto, Musiala, Lof Tushik e Rabbeo centrocampo, poi vabbè la difesa giustamente rimane com'è. Istruzioni, andiamo a mettere Francescoli, rimane centrale e tutto il resto normale, Abbe Di Pelè, inserisciti alle spalle e tutto il resto normale, Obama Young, inserisciti alle spalle e rientra difesa in modo che quando difendiamo, scende giù e diventa un 4-4-2. Lof Tushik andiamo a mettere in trenare per il cross e copertura al centro, Rabbeo andiamo a mettere resta dietro in attacco, resta al limite per il cross e copertura al centro, Musiala avanza in trenare per il cross e copertura sulle fasce perché dovete immaginare che in difesa siamo 4-4-2, quindi se già Rabbeo e Lof Tushik coprono al centro, Obama Young tornando indietro si ritrova sulla fascia, questa fascia rimane scoperta. E allora andiamo a mettere Musiala copertura sulle fasce in modo che lui si allarga un po' di più e le fasce rimangono coperte. E in centro campo giustamente abbiamo poi Rabbeo e Lof Tushik. Poi al difensore meno offensivo, anche se lui è abbastanza offensivo, mettete tutto equilibrato, invece all'altro, che io mi trovo meglio con Cafu, attaccare e partecipa all'attacco e sovrapponiti. Il resto, i difensori centrali rimangono predefiniti e io col portiere attualmente mi sto trovando bene con equilibrata e equilibrata, anche se potete mettere il portiere fuori da pali che non è male, anzi, è una bella carta. E niente ragazzi, io vi auguro una buona visione, spero di non essere stato molto lungo con il recap della mia squadra, spero che questa squadra vi possa piacere, anche se la mia non è la vostra, però giusto se vi piacciono i giocatori o se avete delle critiche da farmi riguardo a qualche giocatore o qualche consiglio, secondo voi cosa pensate di mettere titolare, io ascolto ben volentieri perché non si sa mai, magari qualcuno di voi mi dice, ma perché Sibbe non metti Forlan, Brolin, Toei, Aubameyang e Pelé? Io lo provo, perché è giusto provare, non sempre, se hanno solo ottime idee da noi stessi, bisogna anche ascoltare gli altri e io ci tengo ad ascoltarvi. Niente ragazzi, io non voglio divulgarmi troppo perché sennò il video diventa troppo noioso e vi ringrazio comunque sempre per il vostro supporto, mi raccomando lasciate un like e un bel commento se vi piace questo video e ci vediamo alla prossima, un bacio dal Sibbe, bella ragazzi. Grazie a tutti.